Musica Ben ritrovati su CTS Notizie per questa nuova edizione del nostro TG apriamo subito con un'importante notizia che riguarda l'Europa che finalmente si ricorda della Sicilia per la questione sbarchi le pressioni del governo italiano hanno infatti convinto l'Unione Europea a scendere in campo a fianco dell'isola con la missione Triton che coinvolgerà 18 stati membri Alfano ha anche annunciato che l'operazione Mare Nostrum si fermerà il servizio Dopo un anno dalla sua nascita l'operazione militare Mare Nostrum chiuderà i battenti a fine mese il suo posto verrà posto da Triton un'operazione di controllo delle frontiere europee alla quale hanno aderito 20 paesi Triton tuttavia non si occuperà dei controlli dei confini italiani Mare Nostrum in quest'anno è stata bersaglio di critiche e malcontenti nata il 18 ottobre del 2013 ha portato al salvataggio di circa 150.000 migranti all'arresto di 330 scafisti e al sequestro di 5 navi madri l'operazione umanitaria è stata voluta dopo l'incremento dei flussi migratori e delle tragedie del mare del 3 e dell'11 ottobre a Mare Nostrum hanno preso parte la marina e l'aeronautica militare e i corpi armati dello Stato servendosi di collaborazioni e accordi con il Ministero della Salute che ha monitorato il possibile rischio di diffusione di malattie infettive il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e tante altre associazioni che si sono impegnate per porre un freno ai viaggi della speranza i successi di Mare Nostrum si sono registrati anche grazie all'ausilio di navi sommergibili, elicotteri ed aerei che hanno visto la presenza di circa 900 militari al giorno E tra poco vi mostreremo le immagini della grande mobilitazione della Cisle nei confronti del governo regionale Reo di immobilismo nella gestione delle emergenze della Sicilia tra poco Grazie a tutti Stop ai topi di appartamento Metti in sicurezza i tuoi beni più cari con Blindo Casa Antica falegnameria Produzione di porte blindate di massima sicurezza Porte in legno massello Infissi in PVC e alluminio legno Blindo Casa inoltre permuta i vostri vecchi infissi Porte interne a partire da 180 euro Showroom via la regione siciliana numero 450 Blindo Casa Assistenza 24 ore 393 970 66 55 Blindo Casa La scelta sicura La Sicilia muore ma si può ancora salvare E' indispensabile imboccare subito la strada della crescita Perché accada la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti Perciò serve l'informazione investigativa propositiva ed efficace Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione Ma questa tosse si è che questo bruciore del soffoco le vengono la mattina? Ma lei ha un'ermia diatale, mi scusi Simacron 300, uno al giorno Ma si figuri, non mi disturbo affatto Abbiamo scherzato Ora parliamo di una cosa seria Dobbiamo aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica E' una malattia gravissima Per questo dobbiamo sostenere la fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Per trovare una burra Facciamolo Ma facciamolo adesso E rieccoci in studio La CISL striglia la regione per l'immobilismo nella gestione delle emergenze Grande mobilitazione questa mattina in Piazza Indipendenza a Palermo Organizzata nel giorno che il sindacato su scala nazionale ha definito Jobs Day Vediamo La CISL scende in Piazza Indipendenza a Palermo Per manifestare contro il governo Crocetta Centinaia di lavoratori licenziati, cassi integrati, provenienti da tutta la Sicilia Hanno protestato rumorosamente con bandiere e striscioni Per dire no a una politica regionale inefficace Per molti lavoratori Come quelli dei settori di formazione, igiene ambientale, forestale e pensionati Negli ultimi giorni il governatore ha rilasciato dichiarazioni Che davano segnali distensivi dopo tavoli di discussione Con sindacati confederali e di base Ma la CISL si è dissociata E ha lasciato il tavolo per passare alla manifestazione di Piazza Svegliatevi perché? Cosa chiedete al presidente Crocetta quest'oggi? Ma il governo Crocetta, a tutto il Parlamento siciliano, a tutta la politica Anche al governo nazionale Non mi sembra normale la condizione in cui abbiamo di emergenza Perché ormai non si può parlare più di crisi Quando le crisi non vengono affrontate Diventa emergenza Quindi parliamo di condizioni disperate delle persone E qui emergenza economica, emergenza sociale e amministrativa Non mi sembra normale vedere tutti questi signori Orsi signori impegnati a litigare tra chi devono spartire Assessorati, centri di potere, finzioni, imbrogli Per salvare un assessore La romana etica parlamentare E' una vergogna Quindi la CISL è considerato che ha sempre fatto proposte Abbiamo fatto proposte noi sulla crisi del governo stesso Siamo all'assurdi Non siamo più disponibili a vedere umiliati lavoratori Cosa chiedete al governatore Crocetta? Chiediamo di tornare in servizio Da un anno e mezzo siamo stati licenziati L'unica proposta che ci ha fatto il Presidente E' quella di avere degli ammortizzatori sociali Noi abbiamo l'esigenza di tornare in servizio Abbiamo l'esigenza di avere delle E sono in 300 i dirigenti regionali dei beni culturali Senza contratto che però lavorano in queste condizioni Già da un anno Il sindacato di Irsi ha annunciato così la propria discesa in campo Con l'avvio delle procedure per lo sciopero Sentiamo Dirigenti sul piede di guerra all'assessorato regionale e beni culturali Secondo il sindacato di Irsi In 300 sono al lavoro senza aver firmato il contratto E quindi sono state avviate le procedure per lo sciopero Il motivo per il quale si è arrivati a questa rivolta È dovuto al fatto che non si sono trovate le risorse Per pagare parte dell'indennità E mancavano persino gli obiettivi Che i dirigenti avrebbero dovuto rispettare Secondo il dirigente generale Giglione Si tratta di una situazione ereditata dal passato Perché non c'era l'impegno per gli oneri accessori Per il contratto della dirigenza per il 2013 Ma la questione, secondo il dirigente, si avvia verso la soluzione Così il comparto dirigenziale della regione rimane ancora nell'occhio del ciclone Ed ai giorni scorsi la notizia è che in alcuni assessorati In particolare economia, formazione e sanità Mancano dirigenti e nonostante gli atti di interpello per la mobilità interna Non è stato trovato ancora nessuno Contemporaneamente alla regione ci sono circa 400 dirigenti Che non guidano alcun ufficio Ma ricevono di volta in volta incarichi di studio e consulenza Mentre altri 700 dirigenti sono alla guida di strutture Che secondo il governo e la Corte dei Conti Potrebbero essere ridotte attraverso accorpamenti Risparmiando sulle indennità E intanto il presidente della regione Rosario Crocetta È intervenuto per parlare della questione Ebola Ma anche per fare il punto sulla situazione della formazione Che tanto sta facendo discutere Ascoltiamo È come sempre un Rosario Crocetta a tutto campo Quello che si è presentato davanti ai cronisti a Palazzo d'Orleans Conferenza stampa indetta per parlare della campagna di prevenzione Che la regione siciliana sta lanciando sull'allarmismo per il virus dell'Ebola Prima però il presidente della regione parla del settore della formazione Dopo l'accordo anche sui licenziamenti Che vengono ritirati da parte di tutti gli enti Nei confronti dei lavoratori Dopo aver risolto il problema dell'avvio dei corsi E la terza annualità E man mano che si presentano gli accrediti Se avrà l'anticipazione delle risorse Dopo aver risolto il problema della partenza dei corsi OIF Dopo averlo che l'avvocatura Ha riconosciuto che la selezione Le selezioni del 14 luglio e quelle del 5 agosto sono valide Dopo che parte il nuovo piano giovane Con altri mille tirocini Più gli altri progetti Con la garanzia giovane e piano giovane Che saranno diverse migliaia Di corsi e di lavoro vero Che mettono in campo Una serie di risposte concrete ai lavoratori Dopo aver presentato Nelli Scilabra E' il primo assessore della formazione Che dal 1976 Presenta l'unico progetto di legge di riforma Della formazione Probabilmente deve essere sfiduciata Perché all'ardire Di fare una cosa che nessun altro aveva avuto il coraggio di fare Cioè presentare la riforma della formazione Dopo che è stata proposta dal governo L'agenzia Io credo che tutti Dopo che stiamo pagando gli enti ogni giorno Per pagare i lavoratori Con somme rivolte ai lavoratori Per pagare i lavoratori Io credo che Un motivo c'è Se c'è un motivo E' soltanto Di cercare di volere fermare Il lavoro di riforma di questo governo Anche nel campo della formazione E' un tentativo di ritornare indietro Che non avrà mai Poi si parla del falso caso di Ebola All'ospedale Bucchieri di Laferla Interviene l'assessore alla sanità Lucia Borsellino I falsi alarmi purtroppo poi creano panico All'interno dell'organizzazione dei cittadini Quindi quello che abbiamo voluto fare E' seguire passo passo Il percorso clinico assistenziale Che è stato prestato al paziente Si tratta in questo momento Di una sindrome parainfluenzale Con stato febbrile Che adesso è rientrato assolutamente nella norma Terremoto all'AMAT Per il sospetto di appalti Truccati per i lavori di realizzazione Del tram a Palermo Il direttore generale Domenico Caminiti Si è autosospeso Dall'incarico al CDA A seguito della durissima Relazione estirata Dall'autorità nazionale anticorruzione Guidata dal magistrato Raffaele Cantone Sentiamo Appalti sospetti del tram Si dimette il direttore generale Amat Domenico Caminiti L'autorità nazionale anticorruzione infatti Ha riscontrato circostanze sospette Che riguarderebbero appalti Spese eccessive per consulenze Errori e ritardi progettuali Quadri economici abbozzati E privi di autorizzazione Caminiti ha inviato una lettera Al consiglio d'amministrazione E adesso si attende La seduta del consiglio Che avrà luogo a fine mese L'ex direttore generale Parlerà delle vicende avvenute Quando era responsabile Unico del procedimento Proprio della realizzazione Del tram a Palermo La questione è stata sottoposta Alla procura della Repubblica E alla Corte dei Conti E intanto L'AMAT ha apprezzato Il gesto di Caminiti Definendo la sua autosospensione Un atto di responsabilità Che aiuterà a gestire Al meglio le criticità emerse Sul fatto Si è pronunciato anche Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando Il cui ha dichiarato Che le indagini Dell'autorità nazionale anticorruzione Emergono da alcune segnalazioni Dell'amministrazione comunale Avvenute nel 2012 In seguito Con l'inserimento Della nuova amministrazione Il proseguimento dei lavori Avvenuto secondo le regole legittime E ottenendo l'approvazione Da parte di organi europei e regionali Adesso I lavori della linea tram di Palermo Proseguiranno Secondo i termini di legge E i tempi prestabiliti Ancora una casa di prostituzione Scoperta questa volta A Vittoria La polizia ha arrestato Un romeno di 26 anni Che obbligava la fidanzata A prostituirsi Dovrà rispondere Di favoreggiamento E sfruttamento Della prostituzione Aggravato dall'uso Della violenza E minaccia Il servizio Favoreggiamento E sfruttamento Della prostituzione Aggravato dall'uso Della violenza E minaccia Di questo dovrà rispondere Niku Sor Vlad Romeno di 26 anni Pregiudicato E senza lavoro Arrestato dalla polizia Di Vittoria L'attività investigativa Aveva preso il via Nell'agosto Dello scorso anno Quando una giovanissima Donna romena Si è recata al commissariato Denunciando di essere Costretta dal suo fidanzato A dedicarsi alla prostituzione Il suo fidanzato protettore Consentiva prestazioni Solamente ad italiani Quando a chiamare Erano stranieri In particolare Nordafricani Riconosciuti dall'accento Toglieva il telefono Alla ragazza E rifiutava la domanda Di prestazioni sessuali In malo modo La tariffa era Di 50 euro Al rapporto Che saliva a 100 euro Qualora l'incontro Avesse avuto durata Superiore ad un'ora La donna era obbligata Ad effettuare Almeno 5 prestazioni al giorno L'uomo decideva Il luogo della consumazione Dei rapporti sessuali Talvolta accompagnando La donna in auto Quando i rapporti Non avvenivano Oltre che la riforniva Di preservativi Al vaio della polizia Adesso il contenuto Di un personal computer Trovato in camera da letto Al cui interno È stata trovata Abilmente celata Una videocamera Che registrava Sull'hard disk Il sospetto È che venisse impiegata L'insaputa dei clienti Per riprendere A registrare Le scene degli incontri E c'è voluto L'intervento Dei vigili del fuoco All'alba di questa mattina Per recuperare Un'auto finita in acqua Al porticolo Della bandita A Palermo Le operazioni sono durate Diverse ore Ma fortunatamente All'interno del veicolo Non è stato trovato Nessuno Vediamo Vigili del fuoco In azione Questa mattina A Palermo Per recuperare Un'auto finita In mare Nello specchio d'acqua Del porticolo Della bandita Sul posto Presenti Anche i sommozzatori Dei pompieri In mattinata I vigili del fuoco Intervenuti sul posto Hanno recuperato L'automobile Al cui interno Per fortuna Non c'era nessuno Una Fiat Panda Bianca Come si vede Da queste immagini Si pensava Che all'interno Della vettura Ci fosse qualcuno E infatti È immediatamente Scattata La procedura Di recupero Per fortuna Però all'interno Dell'auto Non c'era nessuno Si teme che sia Un'auto rubata E che poi Sia stata fatta Scivolare In acqua Non è la prima volta Che una vettura Viene recuperata Nello specchio Di mare Della bandita Ma nei casi Precedenti Si è sempre Trattato di un suicidio Come quello Di circa Un anno fa Quando un anziano Fu ritrovato in acqua Dentro La sua automobile E cambiamo argomento Piff lancia La Addio Pizzo Card Dai microfoni Di Rai Radio 2 Ai provinciali Piff ha ospitato Dario Storico membro Del comitato Addio Pizzo Per presentare La nuova carta sconti La cui differenza Andrà a comporre Un fondo Per il recupero Di una zona Di Palermo Tra il parco Della Faulita E Piazza Maggione I dettagli nel servizio E attiva da oggi La Addio Pizzo Card La carta Per l'investimento collettivo A cui hanno aderito Finora 152 esercenti Di Palermo La card Permetterà Di finanziare Due progetti Di riqualificazione Nella città Il primo Dovrebbe portare Alla creazione Di un centro Di educazione ambientale Nel parco Della Faulita Un secondo progetto Prevede la riqualificazione Di parte Di Piazza Maggione Con la creazione Di un'area giochi E un piccolo orto Nel pezzale Antistante La scuola Ferrara La carta Può essere richiesta Con una piccola donazione Nella sede Dell'associazione Di Via Lincoln Oppure online E verrà recapitata Per posta A casa Ad oggi Sono 916 I negozi E le imprese Aderenti Da Addio Pizzo 152 Gli esercenti Convenzionati Con Addio Pizzo Card Alla presentazione Dell'iniziativa C'erano anche Il prefetto Santi Giuffre Commissario straordinario Del governo Per il coordinamento Delle iniziative Anti-racket Anti-usura E Pif Testimonio della campagna Insieme a Stefania Petix È un'importante Iniziativa Un'iniziativa Peraltro Molto raffinata Culturalmente Che dà il senso Del reale impegno Di una società civile Per la svolta Di questa terra Comunque Parlando di Addio Pizzo È un fatto concreto Che è una cosa Che funziona Perché ripeto Ci sono intercettazioni Di mafiosi O pentiti Che confermano Che Addio Pizzo È un problema Per la mafia E quindi Se si è contro La mafia Non vedo perché Non appoggerà Di ufficio In tutte le sue Forme E iniziative Ed è tutto pronto Per l'avvio Dei lavori Di manutenzione Messa in sicurezza Della cattedrale Di Agrigento Nel corso Di un incontro Tra il governatore Crocetta Accompagnato Dall'assessore I beni culturali E rappresentanti Della diocesi Agrigentine È stato fatto Il punto Sugli interventi Necessari Sentiamo Competenza divise Tra gli interventi Da effettuare Sulla collina E quelli sul colle E quanto è emerso Dall'incontro di ieri Svolto alla regione Tra il presidente Della regione Crocetta E l'arcivescovo Di Agrigento Monsignor Francesco Montenegro È stato un altro incontro Che ha fatto fare Piccoli passi Se volessimo legare L'antamento Di questa vicenda Legato alle attività Che stiamo svolgendo Attorno all'attenzione Per la cattedrale Potremmo dire Walk in progress Ma piccoli passi Cioè Lavori in corso Ma in progress Ma piccoli passi L'incontro Che doveva essere Un incontro tecnico Ha portato I suoi risultati Erano presenti Tutti i dirigenti Interessati Della regione siciliana E i responsabili Territoriali Di Agrigento La conclusione Più importante È stata quella Che ha Tirato alla fine Dell'incontro Il dirigente Gullo Dell'assessorato Territorio Impiente Che rappresentava Il presidente Della regione Che ha proposto Di suddividere Le competenze Ha proposto Perché poi L'atto ufficiale Dovrà essere Presentato Dato al presidente Della regione Di dividere Le competenze Circa la cattedrale Gli interventi Di messa in sicurezza Sul bene cattedrale Non sui beni Della cattedrale Perché poi I beni mobili Ce ne sono molto pochi E quelli storico-artistici Sono legati anche Alla struttura Quindi L'intervento Sulla cattedrale Per la messa in sicurezza Genio civile E sovrintendenza Con i relativi dipartimenti Regionali Naturalmente E con la collaborazione Della Curia Che metterà a disposizione Il suo consulente E anche i tecnici Mentre l'intervento Su colle Che riguarda Unicamente interventi Di natura civile Alla protezione Civile Che dovrà fare La progettazione Si è parlato anche Di un possibile Banto di concorso europeo Per capire Come risolvere Il problema Che non riguarda Il colle sotto la cattedrale Ma riguarda Tutta la collina Di Agrigento E quindi Una parte Del centro storico Della città Non si tratta Dell'ennesimo tavolo Tecnico e improduttivo Ma questa volta Si sono stabilite Le linee guida Sugli interventi Da effettuare I tempi Sono tempi amministrativi Sono tempi La progettazione esecutiva Presumo che Ricevento l'incarico La sull'intendenza E il genio civile Potrà essere fatta In brevi tempi Perché anche C'è tutto il lavoro Preliminare Che abbiamo fatto Come di oggi Se che già La sull'intendenza Ha iniziato A fare Certamente Non possiamo Parlare Di tempi Legati A un anno Ma ci vorrà Qualcosina in più Tra la progettazione Preliminare Esecutiva Finanziamento Gare Appalti E tutto il tempo Speriamo Speriamo che Questi tempi Non siano come I tempi di Genova Parliamo di Medicina Farmaci Biologici E nuovi approcci Per combattere Il tumore al polmone Terza causa Di mortalità Maschile In Sicilia Se ne è parlato Nel corso Di un incontro Tenutosi a Palermo Al quale hanno partecipato Numerosi oncologi siciliani Sentiamo Nuove cure Per il tumore al polmone Malattia Che rappresenta La terza causa Di mortalità Maschile E in Sicilia Ogni anno In media Sono 2314 I casi di insorgenza Di cui 1901 L'82,2% Negli uomini E 413 17,8% Nelle donne I nuovi farmaci Biologici Unitamente Al nuovo approccio Terapeutico Multidisciplinare Che permette Di individuare La tipologia Del tumore E colpirlo Con farmaci Bersaglio Che diminuiscono Al minimo Il ricorso Alla chemioterapia Però Forniscono Nuove prospettive In capo medico Per affrontare Il fenomeno Si tratta Di farmaci Non tossici Che possono Essere somministrati A domicilio Per via orale Migliorando La qualità Di vita Del paziente Allungando Nella sopravvivenza In quest'ottica Però è necessario Trasferire A questo genere Di tumore L'esperienza Maturata Attraverso La breast unit Nata per combattere Il cancro al seno Istituzionalizzando E codificando Sanitariamente La composizione Delle unità Di diagnosi Terapia E cura Creando delle Lang unit Ovvero Dei team sanitari Di riferimento Se ne è parlato Durante un incontro A Palermo Al quale hanno preso parte Diversi oncologi siciliani Questa è già una realtà Da 3-4 anni A questa parte In quanto abbiamo Test genetici In grado di farci Utilizzare In maniera specifica Farmaci a bersaglio Individualizzati Per i singoli pazienti Molto rapidamente Vi è anche una pletola I nuovi farmaci In arrivo L'ultimo congresso mondiale Si è tenuto A Madrid Poche settimane fa Ci fa sperare bene Per il prossimo futuro E la loro importanza È legata Al riduzione netta Della tossicità Al miglioramento Della lavorabilità Di trattamenti E anche al miglioramento Dalle risultati ottenuti Speriamo che questo Sia un trend progressivo Nei prossimi anni L'unico modo Per poterla affrontare È mettere insieme Le competenze Di tutti Un team Multidisciplinare Che coinvolge L'opnocolo interventista L'oncola L'atomopatologo Il radiologo Il radioterapista Il chirurgo torace C'è un gruppo Sostanzioso Che può affrontare Questo problema così grave Però così anche Influente La diagnosi molecolare Ormai è basilare All'interno di un referto Di anatomia patologica Per il carcinoma del polmone In quanto Le terapie Sono sempre più personalizzate E pertanto È responsabilità Dell'anatomopatologo Da un lato Ottimizzare il materiale Ossia effettuare diagnosi Ma permettere Che possano essere Poi fatte successivamente Indagini Quali per esempio La valutazione Dello stato molecolare Di EGFR ROS ALC Per permettere All'oncologo Di utilizzare Questi nuovi farmaci Per delle target therapies Grande successo Per la ventesima edizione Della Sagra della Mostarda Di Fico d'India L'avvenimento culturale Culinario Più importante Del paese Di Gagliano Castelferrato Svoltosi dal 11 Al 12 ottobre Tanti gli avventori Che hanno potuto Così gustare le prelibatezze Ammirando le bellezze locali Vediamo Grande soddisfazione A Gagliano Castelferrato Per il successo Tenuto anche quest'anno Con la complicità Del tempo sereno Grazie alla Sagra Della Mostarda Che è ormai giunta Alla sua ventesima edizione La Sagra è di certo Uno degli appuntamenti annuali Più attesi Per Gagliano Che grazie a questa manifestazione Può celebrare Il prodotto culinario Vestendo a festa L'intera cittadina Ed accogliendo I tanti turisti Che sopraggiungono Per assaggiare La mostarda fredda Ma anche per godere Del programma Di intrattenimento Offerto per l'occasione L'edizione 2014 Ha visto la partecipazione Di ben oltre 60 stand espositivi Ed il pubblico Intervenuto Per le degustazioni Ha potuto anche tuffarsi Nella sicilianità Che trappelava dall'evento Grazie alle sfilate Di carretti siciliani All'animazione A cura Del gruppo Folcloristico Core di Enna All'esibizione Dei piccoli Siciliani Gaglianesi Il programma Ha previsto pure Visite guidate Come alla madre chiesa E dal castello locale E momenti religiosi Come celebrazioni Eucaristiche E processioni Non sono mancati I momenti Dedicati alla musica Un concerto serale Uno spettacolo Di cabaret E l'esibizione Dei due comici siciliani Toti e Totino Volti noti Per una celebre Trasmissione televisiva Subito dopo la pubblicità Un'altra brevissima pausa E poi parleremo di sport Restate con noi Safir Nata con prerogative Di alta qualità Oggi Safir È l'industria Per la sicurezza Che senza smentire Un passato Esclusivamente artigianale Abbina tecnologie Molto raffinate E moderne All'esperienza In manualità Che da sempre La contraddistingue Safir La sicurezza Dei tuoi beni Più cari Comunica Cotice 202 in atto Sul Palermo 98 Non si inappoggio Anche alla me Global Security International Gli specialisti Della vigilanza E della sicurezza Personale altamente qualificato Pronto intervento Controllo attività commerciali Con tecnologie innovative Global Security International Servizi di scorta Radio e telecamere Telesoccorso 24 ore su 24 Vigilanza notturna e diurna Vigilanza fissa Punzonature Trasporto valori Global Security International Consorziato sicuramente Contattaci per la tua sicurezza Chicovo Un amore nuovo Apriamo la pagina sportiva Per parlare di calcio Non si può più sbagliare Il Palermo torna davanti Ai propri tifosi Per una sfida Che dovrà necessariamente Avere il sapore della rivalsa Contro il Cesena Ritorneranno in campo Gonzales e Munoz E il Rosanero Proveranno a far dimenticare La brutta prestazione Contro l'Empoli Il servizio La necessità di dimostrare Che qualcosa è cambiato Contro il Cesena Domani per il Palermo Sarà fondamentale Invertire la rotta Che fin qui Ha portato tre punti In sei partite Da un lato Beppe Iacchini Dovrà inserire gradatamente I nuovi elementi Alcuni dei quali Poco utilizzati In questa via di stagione Dall'altro È chiamato a tutelare Gli equilibri Di una squadra Che non può più Permettersi di subire Un'altra imbarcata Che all'ambiente Potrebbe risultare Pressoché fatale Quella di domenica Contro il Cesena A tutti gli effetti Una partita Uno scontro diretto Il secondo del campionato Dopo quello di Empoli Due settimane fa Rispetto a Empoli Però cambieranno Probabilmente diversi Protagonisti in campo E a detta Di alcuni giocatori Terzi e Barreto Cambierà anche L'atteggiamento Della squadra Il gruppo allenato Da Iacchini Ha proseguito la preparazione In vista della sfida Appunto contro i Bianconeri Prima della rifinitura Che verrà effettuata Con la doppia seduta Di sabato Provati schemi Situazioni di gioco Con partitella finale In porzione ridotta Di campo Barreto tuttavia Non si è allenato Con i compagni Il centrocampista Ha proseguito il lavoro Tra campo e palestra Con i preparatori E si è sottoposto Alle terapie Sembra quindi Che per Barreto La strada sia segnata E a meno di un recupero Nelle ultime ore Il giocatore Dovrebbe non essere Disponibile Per la partita Contro il Cesena Il numero 8 Rosanero di fatto Non si è più ripreso Dopo l'amichievole di giovedì 3 ottobre Contro gli allievi Quando aveva subito Una botta Che lo aveva costretto A lasciare il campo Anzitempo Successivamente Assaltato La trasferta Di Empoli Recuperato invece Belotti Che dovrebbe partire Dalla panchina E per il momento è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Vi lascio Gli aggiornamenti Dall'Italia e dal mondo Arrivederci La legge di stabilità Continua a dividere Governo e regioni Sul piede di guerra Per i tagli Circa 4 miliardi Le incontri Roma Devono farsi perdonare Per 20 anni Hanno pagato solo le famiglie Ha ribadito ieri sera Il premier Renzi Abbiamo un piano Il premier ci vede Alla proposta del presidente Della conferenza Delle regioni Chiamparino Si discuta Ma dentro i saldi Ammonisce Il ministro Padoan Il prefetto di Roma Diffide il sindaco Marino Sulla trascrizione Del nozze gay Sul registro comunale Non li registri L'altolà dato ieri Da Pecoraro In vista della cerimonia Prevista oggi In Campidoglio E relativa ai matrimoni Celebrati all'estero Da 16 coppie omosessuali Altrimenti Avverte il prefetto Potrà rendersi necessario L'annullamento dell'atto All'indomani Dei disordini Al corteo Fiomeri-Torino E delle polemiche Tra l'Andini E la questura Stamane Metalmeccanici Nuovamente in piazza Roma Contro l'articolo 18 Sabato prossimo La manifestazione nazionale Della CGL Contro le politiche Sul lavoro Del governo Renzi Un anno di Mare Nostrum Dall'inizio Dell'operazione Umanitaria e Militare Il 18 ottobre 2013 Salvati Assistiti 150.000 migranti 409 al giorno Significativi Anche i dati Sui trafficanti E 339 gli arresti L'Europa Deve iniziare Ad assumersi Le proprie responsabilità Davanti al dramma Dell'immigrazione Chiede il direttore Di Amnesty International Italia Gianni Ruffini Bocciando l'operazione Triton di Frontex Che dal 1 novembre Prenderà il posto Di Mare Nostrum Dopo il contagio Da ebola Di due infermiera Dall'assi Le polemiche Sulla sicurezza Negli ospedali Pronte linee guida Più stringenti E la stampa USA Sottolinea la carenza Di posti letto 19 in totale Nei quattro nosocomi Altamente specializzati Nelle malattie infettive Altri arresti a Hong Kong Negli scontri Fra la polizia E i manifestanti Pro democrazia Che cercavano Di riprendere Una postazione Di protesta smantellata Una trentina Le persone fermate Feriti 15 agenti E 9.000 attivisti Sono riusciti Ad occupare Un'intera strada Nel quartiere di Mongok Giunto alle Bermuda L'uragano Gonzalo Con venti Fino a 185 km Orari E piogge torrenziali Si registra almeno Un morto A causa della tempesta 30.000 famiglie Sono rimaste Senza corrente elettrica Segnalati allagamenti E stralipamenti Ricorsi d'acqua Non uscite di casa All'avviso alla popolazione Diramato dal centro americano Per gli uragani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti